Ciao ragazzi, Circe anche in Bella V. Allora, un video sul calciomercato del Bari. Sappiamo che entriamo nel vivo fra un po' del calciomercato e quindi ci tocca iniziare a capire cosa avverrà dal calciomercato perché poi da questo, come sappiamo, dipenderà il proseguo della stagione del Bari, no? E fondamentalmente sappiamo che siamo in mano a Ciro Polito che è considerato dagli addetti ai lavori forse il migliore, uno dei migliori direttori sportivi della serie B. Per niente ha vinto il premio quest'anno per lo sportivo dell'anno scorso, quindi c'è da fidarsi. Diciamo che indiscrezioni già in generale non escono tante, in serie B proprio quasi zero. quasi zero, anche perché gli equilibri in serie B sono molto molto precari, il livello è molto appiattito fra le squadre e quindi i giocatori che fanno la differenza se li tengono ben stretti. Adesso penso al Como che grazie a Verdi, Simone Verdi, sta facendo benissimo. e a Cutrone, solo che Cutrone viene da due stagioni un po' deludenti nel Como. Verdi, che in serie A faceva un po' fatica, adesso in serie B fa vedere tutto il suo valore perché è un giocatore importantissimo che salta l'uomo, che fa gol, che batte i rigori, credo. Quindi Verdi, che è un regista, fantasista, dotato di ottima tecnica in serie B, sta facendo sfaceli. Quindi, questo è per dirvi quanto conta un giocatore, un regista forte. E il Como, state sicuri che Verdi non lo dà manco con le cannonate, no? E sappiamo che il Como sta facendo un percorso molto molto importante. E lì davanti anche il Cittadella sta quarto. Il Cittadella, ragazzi, ha giocato col Bari, sembrava una squadretta, ora con tutto il rispetto. Quindi, là quest'anno è molto molto ambita, ci sono tante squadre che possono andare, ravvicinate. Non è come l'anno scorso, l'anno scorso c'era il Frosinone che dominava e poi c'era il Reggina, il primo giorno d'andata, il Genoa, il Genoa di Ritorno, che si sono un po' allineati sul secondo posto e poi lì c'era Bari, Cagliari, così. Quest'anno invece c'è molta bagarre davanti, c'è il Parma che guida non senza difficoltà. Poi dietro ci sono Venezia, Como, Cittadella, Catanzaro, insomma, sono squadre cremonese anche, c'è la Samp, insomma, sono tante squadre che vogliono andare in A, i posti diretti sono due, poi si gioca ai playoff, ne vanno in tutto tre. Quindi, la notizia di calciomercato latitano. Quello che si sa è che questo Bidawi, non so come si pronunci bene, che è un attaccante, che può darsi che possa arrivare, ma non è una prima scelta, è comunque un ripiego da quello che leggo. L'attaccante prima scelta, si parla di Puskas, ma è difficile, gli attaccanti sono merce rara, giustamente Marino dice che è tutto finalizzato lì, tutto finalizzato l'attaccante. Puoi lavorare sul centrocampo, puoi lavorare sulla difesa, ma non puoi lavorare tanto sull'attacco perché l'attaccante o ce li hai, non ce li hai. Chi ha il fattore è il gol, chi può andare in doppia cifra, questo deve cercare il Bari, come ha detto Gautieri, di chi ha la fame di Di Cesare. Poi si parla anche di questo esterno del Modena Gruyere, non ho capito bene come si pronunci, ma la vedo molto remota come possibilità. La cosa che mi ha meravigliato, ragazzi, è che si parla già di alcune uscite a gennaio, per quanto riguarda il Bari, e le si danno quasi per certe, quindi laddove ci sia molto silenzio sulle entrate, sulle uscite, sulle uscite no. Perché si parla che frabotta, va via, e quindi il Bari sta cercando un esterno sinistro che stiamo cercando da quest'estate, difficilissimi da trovare, merci rara, perché poi, essendo molto appiattito e allineato l'equilibrio in Serie B, c'entra a meta e non si riesce a sfondare, si lavora molto sulle fasce Parma, Do, Cetno. E quindi si pensa che si stia cercando un terzino sinistro. Anche a destra non siamo messi bene, perché Puccino non sta più tanto bene da 3-4 mesi, Dorval non difende bene, infatti abbiamo preso una caterva di gol dalla destra. Caterva, questo a tutti i baresi che amano Dorval. Tutti i gol che abbiamo preso negli ultimi tre mesi vengono da cross dalla destra. Quindi da Venezia, Catanzaro, non si capisce, ci hanno fatti a pezzi. Puccino sta così così, Barino addirittura ha dovuto giocare con un terzino bloccato destro, come Matino, che è un centrale, che però ha giocato molto bene a Genova contro la Samp. Quindi Matino ha giocato meglio di Dorval e un altro po' anche di Puccino, però Puccino è un signor difensore per la Serie B quando sta bene. Quindi si parla di Frabotta che se ne va, se ne torna il mittente, torna la Juventus credo. Poi si parla di Aramu che va via, quindi un Aramu la cui avventura a Bari non è mai decollata e dovrebbe andare via già a gennaio con la felicità di molti. Io non esulto perché comunque io l'Aramu l'ho visto un po' in crescita, un pochino in crescita e poi un giocatore che ha quei numeri, un tifoso si aspetta sempre che possa iniziare un percorso importante. Ricordo a chi parla di Aramu che parliamo di un giocatore che ha fatto una promozione da protagonista, 30 gol in Serie B, 17 assist, quindi un giocatore che i numeri ce li ha, però magari con la testa non ci sta più come prima, non lo so, con le motivazioni intendo. E poi si parla anche di un addio di Morachioli e questo mi ha lasciato perplesso perché Morachioli a quanto ne è sono un giocatore del Bari, quindi O non rientra più nelle strategie tecniche di Marino e quindi la società intende andare avanti anche l'anno prossimo con Marino, non lo so, però mi ha fatto un po' pensare. Poi di sera facevo questa riflessione ragazzi a rampioraggio, secondo me De Laurenti si hanno detto dopo la promozione in Serie B l'anno scorso, hanno detto prendiamoci tre anni per la promozione in A. Poi l'anno scorso abbiamo scavallato, i giocatori hanno fatto un campionato straordinario insieme al mister, allora i D le hanno detto non ce l'aspettiamo di andare in A al primo anno in B, ottimo, prepariamoci. e quindi questo ha portato un po' diciamo uno sconquassamento nel management del Bari, no? Perché non si aspettavano di poter competere per l'A già al primo anno. L'A non è riuscita anche perché insomma il Bari è stato un po' punito per degli errori di approccio, di tattica, di mancanza di esperienza. Il secondo anno hanno detto proviamo a fare la stessa cosa l'anno scorso, con acquisti mirati, un free play finanziario, un'attenzione a un'austerità finanziaria sul mercato, vediamo se riesce il suo giochetto. Il suo giochetto non sta riuscendo, però i programmi secondo me sono in tre anni di andare in A. Naturalmente deve andare in A con una squadra competitiva, si vede Cagliari che sta combinando quest'anno, no? Cagliari che non meritava tanto l'A e sta perdendo tutte, è una squadra che non ce la fa proprio. E per andare in A con una squadra competitiva naturalmente loro sanno che poi o vendi e quindi la nuova proprietà si tiene tutta la squadra, perché se fossimo andati in A l'anno scorso magari avrebbero tenuto tutta la squadra e affidato il calciomercato ad un'eventuale nuova proprietà, mie mie deduzioni, oppure niente, fai degli acquisti mirati in mano ad un ottimo polito e quindi costruisci un programma per marino anche per il prossimo anno. Magari hanno fatto un quadrato di sei mesi, ma il tecnico, che è un tecnico prestigioso, esperto, è un grande tecnico devo dire, hanno detto vediamo quest'anno ma se tutto va bene, non ci sono grandi disastri, il prossimo anno confermiamo Marino e gli facciamo la squadra per lui. E già da questo mercato forse Marino avrà ricevuto la promessa che si farà qualcosa di importante. Per fare qualcosa di importante devi lavorare sotto banco perché in Serie B gli equilibri sono molto molto precari e quindi si può benissimo un giocatore, vi ho fatto l'esempio di Verdi, a me nessuno mi torna dalla testa che Verdi sta facendo tutto lui nel como, sta cambiando il volto al como. Verdi sta cambiando perché Verdi già in Serie A era considerato un fantasista in Serie A, però non ha viaggiato molto e adesso niente. adesso è così. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale di Bellavì e alla prossima. Cheers!